Ehi, tra venti minuti mi devi accompagnare a fare shopping, eh? No, devo uscire io. Come devi uscire? Tra cinque minuti devo andare in palestra. Se non vieni con me a fare shopping, le conseguenze saranno irreversibili. Ma vaffanculo, va! Ma vaffanculo, sono queste le ultime parole di un giovane aggredito dalla moglie. Pare che il ragazzo si sia rifiutato di accompagnare la consorte a fare shopping. È successo in Puglia. Ma ascoltiamo la testimonianza del vicino di casa. Servizio di Gigino Prappapuppi. Niente, io li conoscevo, ha detto le Teresa. Due belle persone, veramente. Non hanno dato me fastidi, me, me, me. Poi all'improvviso io ho sentito che si stavano a litigare. Però, poi, e se ci subordino? Ma poi io dico a Curpac, adesso vi è. Vedi, Ettore. Ma com'è? Non mi porto a fare shopping a Teresa. Ma Ettore, papi, hai chai.